Tra poco, sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. A Calcinelli i ladri entrano nella casa del parroco mentre lui è in chiesa a celebrare la messa. L'assessore ai lavori pubblici di Fano annuncia i lavori al sottopasso del Lido, mai più allagamenti. La politica sanitaria della regione continua a non piacere alle forze politiche pesaresi, da Fratelli d'Italia ai sindaci di quattro comuni dell'entroterra. Luca Cordero di Montezemolo premiato a Sant'Angelo in vado con il Tartufo d'Otto. Venerdì sera, in prima serata su Fano TV, tornano gli Sbancati 2, il film in dialetto fanese che ha riempito le sale cinematografiche di tutta la provincia. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri. Un cordiale saluto, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Dunque, avete sentito nel sommario, mentre il parroco era in chiesa a celebrare messa, i ladri sono entrati in casa e hanno fatto razzia. Per capire l'orario giusto in cui colpire, hanno chiesto ad un'ignara parrocchiana, con la scusa di dover consegnare degli abiti per i poveri, in che ore il parroco era in casa. Lei, in buona fede, ha detto ai tre individui maschi in auto che alle 18 il parroco dice la messa, per cui c'è sicuramente. A quel punto il telsetto ha capito che non avrebbe avuto intoppi e anziché portare abiti, hanno forzato una porta finestra in legno sul retro della casa del parroco e si sono introdotti al suo interno. Ne hanno sfasciate altre sette di porte, compresa quella della sagrestia e quella ai piani inferiori, fino a trovare una busta con 1500 euro, frutto della questua delle messe e poi altri 300 in altra busta. E' accaduto venerdì sera, mentre Don Giuseppe Monaco, parroco della chiesa di Santa Croce a Calcinelli, celebrava una messa per un tricesimo alle 18. Non è la prima volta che accade, per altre tre volte i ladri si sono introdotti nella sua casa, adiacente alla chiesa, dove il sacerdote vive con la sorella, alla quale i ladri, nelle precedenti incursioni, hanno portato via anche oggetti d'oro e ricordi di famiglia, di valore più affettivo che economico. Restano gravissime le condizioni del bimbo di 22 mesi, caduto nei giorni scorsi in una piscina privata piena d'acqua e coperta da un telo di plastica a Penna San Giovanni, in provincia di Macerata, dopo essere sfuggito al controllo della nonna. E' quanto si legge nel bollettino medico diffuso oggi da Fabio Santelli, direttore dell'anestesia e rianimazione pediatrica dell'ospedale Riuniti di Ancona, dove il piccolo è ricoverato in prognosi riservate. Il quadro clinico, dice il bollettino, è di una grave anossia cerebrale da sindrome d'annegamento. Persistono dunque condizioni generali gravissime. Il monitoraggio del bimbo resta costante. Niente più allagamenti nel sottopasso del Lido a Fano. Parola di Assessore ai lavori pubblici. Allora, siamo in presenza di un punto, quello del sottopasso del Lido, che spesso ha difficoltà, ma queste difficoltà verranno superate quanto prima. Speriamo che verranno superate a breve. Effettivamente il problema dell'allagamento di questa parte della città è un problema che è qui ed è presente da, non so, 40 anni, mi permetto di dire. Per cui stiamo cercando di risolverlo in maniera efficace. Per questo abbiamo già affidato ai nostri uffici tecnici la progettazione e ci avvaliamo ovviamente sia per la progettazione che della direzione lavori. Ci avvaleremo di ASET, SPA, che ha maturato in questo campo da punto di vista idraulico anche un'esperienza molto importante. L'approccio che noi abbiamo preso in considerazione, valutato che lungo via della Marina ci potrebbero essere dei problemi con dei sottoservizi, stiamo valutando di spostare, quindi creare una vasca e pompare l'acqua che si accumula qui in maniera naturale verso il porto canale, attraverso via Spontini. Ci stiamo lavorando e vorremmo arrivare, come avevamo promesso anche nell'assemblea pubblica che abbiamo fatto presso questa zona, ad arrivare ad approvare un progetto cantierabile entro la fine dell'anno, sperando che non costi una cifra esagerata e speriamo che i consiglieri comunali e nel bilancio del comune si possa trovare i soldi per questo intervento, che è un intervento che da tutto il Lido è richiesto e atteso da tanto tempo, al di là di tante altre emergenze. Adesso diamo spazio alle vostre segnalazioni. Prima di parlare di sanità, vi facciamo vedere questa fotografia che ci è stata inviata da un gruppo di studenti che ogni giorno prende l'autobus per Fossombrone, di ritorno, quindi per rientrare a casa, un gruppo di ragazzi che frequenta i licei di Fano. Il pullman in questione è quello delle 13.10, che però, come vedete dalle immagini, è sempre troppo pieno. Quindi i ragazzi chiedono di poter aggiungere un autobus per poter viaggiare in sicurezza e sicuramente un po' più comodi. E adesso parliamo di sanità. La sanità pubblica continua a tenere alta la tensione tra le forze politiche. Vedremo tra poco due servizi. Il primo riguarda le preoccupazioni del segretario di Fratelli d'Italia, Antonio Baldelli. Un focus sulla sanità, non soltanto fanese, ma un po' di tutta la provincia. Qual è lo stato di salute? Sì, la sanità provinciale e poi quella fanese che rispecchia la sanità provinciale sono un grave problema della nostra provincia. E allora partiamo dall'ospedale di Fano. L'ospedale di Fano è purtroppo ormai al capolinea, e non lo dice il segretario provinciale di Fratelli d'Italia, ma lo dicono gli esponenti di quel partito che amministra la nostra regione, quindi la sanità regionale e provinciale. Ricordo l'anno scorso quando all'assessore Marchegiani sfuggì la notizia che Fano avrebbe perso l'ospedale pubblico per fare spazio ad una clinica privata. Notizia che è stata confermata in questi giorni proprio alle telecamere di Fano TV, dal sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, il quale in maniera anche un po' beffarda nei confronti dei cittadini fanesi, ha affermato che Fano è una città fortunata perché avrà una clinica privata. Ossia, secondo Matteo Ricci, secondo il PD, Fano sarà fortunata perché chiuderà l'ospedale pubblico e aprirà forse una clinica privata. Io credo di non dover commentare queste dichiarazioni del sindaco di Pesaro, così come credo anche di non dover commentare le dichiarazioni del sindaco di Fano, Massimo Seri, che ha voluto rassicurare i cittadini sulla perdita della pediatria, riportando in maniera trionfale le parole del presidente della regione Ceriscioli, il quale ha detto che pediatria rimarrà a Fano. Però il sindaco Seri si è dimenticato di riportare anche il resto della frase del presidente Ceriscioli, il quale ha affermato che sì la pediatria rimarrà a Fano, ma rimarrà a Fano fin quando non sarà realizzato l'ospedale unico. E' esprimere preoccupazione per il modello di sanità previsto, studiato dalla regione Marche. Sono anche quattro sindaci che oggi si sono riuniti per fare il punto della situazione. Di nuovo insieme per orare alcuni concetti che secondo voi sono caduti nel nulla, nel dimenticatorio. Sì, come dici tu giustamente, siamo di nuovo qua, i sindaci ormai quattro famosi di Fossombrone, Colle Almetauro, Montefelcina e Sant'Ippolito per rivendicare le nostre richieste, le nostre esigenze per l'ospedale di Fossombrone in particolare. Questa è la terza seduta che facciamo, altre due richieste le abbiamo inoltrate nei mesi scorsi, ad una hanno risposto ad un'altra noi, quindi ci aspettiamo risposte, quelle che non abbiamo ancora avuto. Questo per quel che riguarda alcune peculiarità del nostro ospedale, quindi richieste proprio specifiche che riguardano posti letto da attrezzare al punto di assistenza territoriale o ACAP, che dir si voglia. Altre più generiche che sono invece riguardanti l'intero discorso sanitario provinciale. E su questo non possiamo che ribadire la nostra contrarietà e preoccupazione per quello che sta succedendo visto che il piano sanitario che sta andando attuando, che sappiamo tutti scaduto dal 2014, sta portando effetti negativi su tutto il tessuto provinciale sanitario. Quindi ha di fatto già chiuso gli ospedali di Fossombrone e Cagliasso Corvaro, mettendo in grossissime difficoltà, come era prevedibile, gli ospedali di Fano, Pesolo e Urbino in particolare, che sta collassando e quindi siamo di nuovo per farci sentire. La presenza dei suoi colleghi qui testimonia che tutta la vallata, tutto questo territorio, necessita di un punto di riferimento come potrebbe essere l'ospedale di Fossombrone. Sì, assolutamente. Questo è un concetto che noi ribadiamo da tempo, nel senso che è impensabile spogliare l'intera vallata di un presidio ospedaliero nel vero senso della parola. Oggi ci troviamo con quello che è rimasto di Fossombrone, che è poco più che un cronicario, per cui non può più rispondere alle esigenze di sanità dei cittadini, specialmente per quel che riguarda il punto di emergenza e urgenza e un minimo di cure di lungodegenza, acuti e postacuti, che sono stati totalmente tolti dalla nostra struttura. Questo, ripeto, sta creando difficoltà non solo alla popolazione, ma anche agli ospedali rimasti che si trovano ovviamente oberati. Il prossimo passo quale sarà? Dunque, noi stiamo aspettando una nuova conferenza di Arevasta, come ci era stato promesso dal Presidente alla metà di ottobre, se non ricordo male. Sembrava imminente una nuova seduta, cosa che invece ancora non è caduta. Posso anticiparvi che insieme agli altri sindaci del patto di piaggia, qui ricordo che ad esempio il sindaco Agusti, noi eletto, non faceva parte di quello schieramento, ma moralmente con noi, però sentendo, non so, i vari baldelli, eccetera, pensiamo di riproporci in grande stile perché siamo dell'idea che questa sia l'unica soluzione praticabile. Cosa, tra l'altro, condivisa proprio nell'ultima occasione della conferenza di Arevasta, anche da rappresentanti delle sigle sindacali, associazioni, diciamo che la cosa va avanti. Domenica prossima ci sarà un'iniziativa benefica all'aeroporto di Fano, favore del reparto di neuropsichiatria infantile dell'ospedale cittadino che ha in cura i piccoli pazienti affetti da autismo. L'aeroporto di Fano ha intrapreso da tempo un percorso di apertura alla città e condivisione di momenti di festa. Basti pensare alle Befani in aeroporto che tengono ogni anno centinaia e centinaia di bambini col naso all'insù per vederle scendere dal cielo o alle sfilate di moda del Barone Rosso ed anche i recenti raduni di Harley Auto per amanti dei motori. Ma i più piccoli, sempre che accompagnati dai loro genitori, sono sempre degli ospiti di onore negli hangar dell'aeroporto fanese in ogni giorno della settimana e continuano ad essere loro nei cuori sia dei piloti che dello staff. E quindi anche la beneficenza è a loro finalizzata. Trova ampio spazio nelle attività della società che lo amministra. Domenica 29 ottobre chi vuole regalarsi l'emozione di un sorvolo sulla città alla modica cifra minima di 40 euro lo potrà fare prenotandosi al numero 393 10 05 461. A beneficiarne saranno i bambini affetti dalle forme di autismo. È un aeroporto che deve diventare una struttura per tutta la città, per tutti, anche per quelli che sono magari meno fortunati di noi che diamo la possibilità di aiutare magari comprando delle attrezzature mediche o portandoli in volo. Questo qui è una bella iniziativa a cui la fa una fortuna subito appoggiato perché grazie a questa 27 aerobatics diamo la possibilità di poter donare al reparto di neuropsichiatria dell'ospedale di Fano un macchinario che è fondamentale per i ragazzi che non sono meno fortunati. Siamo in compagnia dei tre piloti che materialmente porteranno in volo i fortunati che si prenoteranno per questo volo anche a un prezzo accessibilissimo ma non è stato casuale questo costo. No, no, assolutamente no. Come abbiamo già detto è un prezzo simbolico perché noi chiediamo un'offerta minima di 40 euro che ovviamente per la tipologia di aeroplani e macchine che andiamo a usare è un prezzo veramente irrisorio. Lo facciamo perché speriamo di avere un buon risultato, speriamo che ci siano tante persone che aderiranno a questa iniziativa, tante persone ovviamente, noi abbiamo limitato 27 perché per noi quel giorno è una maratona del volo perché dobbiamo fare 27 voli quindi cominceremo la mattina presto fino a sera. Il piacere di un'esperienza nuova è vedere la propria città anche per i fanesi dall'alto che non è da tutti i giorni con macchine veramente uniche, uniche che come diciamo mettiamo anche noi stessi da parte nostra una somma perché copriamo quello che l'aeroplano effettivamente poi andrebbe a costare. È un bel impegno sì, sicuramente dovremo prestare molta attenzione ma soprattutto speriamo di riuscire a far divertire tutti quanti e ad aiutare veramente chi ne ha bisogno. Altro fine settimana intenso, pieno di iniziative a Sant'Angelo Invado dove domenica scorsa è sbarcato Luca Cordero di Montezemolo per ritirare il tartufo d'oro. Un bel premio in un bel posto, in una bella parte d'Italia con della gente attaccata al territorio, attaccata al proprio lavoro e sono molto contento. Poi quando si riceve un premio è sempre un onore, poi se si riceve un tartufo è un doppio piacere. Luca Cordero di Montezemolo incassa così questo prestigioso premio come espressione massima del mondo imprenditoriale italiano. La lunghissima carriera manageriale di Montezemolo è iniziata a metà degli anni 70 che lo ha visto ricoprire il ruogo di presidente prima e amministratore delegato poi della Ferrari dal 91 al 2006 vincendo nel 2000 dopo ben 21 anni il campionato di Formula 1 con Michael Schumacher, inserito dal Financial Times nella lista dei 50 manager più importanti al mondo. Luca Cordero di Montezemolo attualmente è presidente di Teleton. Ma l'ex ferrarista non è il solo VIP che si è presentato sul palco della centralissima piazza Umberto I, il manager era in buona compagnia. Dopo Valerio Branschi, l'astronascente della cucina italiana, è stato ospite la scorsa settimana, un altro chef dal prelibato curriculum è arrivato a Sant'Angelo Invado, Gianfranco Vissani, cuoco, ristoratore e critico gastronomico attualmente giurato del programma La Prova del Cuoco su Rai 1. Anche il mondo dello spettacolo era ben rappresentato con Maria Grazia Cucinotta, la sempreverde Pamela Prati e poi il comico romano Stefano Masciarelli che si è prodotto in fulminanti battute e la signora della TV nazionale Millie Carlucci che ha strappato al presidente Montezemolo una prossima partecipazione a Ballando con le stelle, insomma un'altra indimenticabile giornata per la cittadina vadese. È un appuntamento sentito che ci rende orgogliosi e ci permette di raccontarci anche magari a chi viene per la prima volta a Sant'Angelo attirati da quei nomi e non ci conosce. Vi aspettiamo a questo punto per il prossimo weekend, il quarto weekend, quello finale, con la tradizionale fiera dei tartufai e con tantissimi altri appuntamenti come cooking show, degustazioni di vini o letture. Venerdì sera dopo il telegiornale tutti incollati alla televisione perché torna gli sbancati due con gli attori più importanti delle compagnie dialettali fanesi, un'esclusiva Fano TV e come è successo per gli sbancati qualche mese fa, ricordo che sarà una prima visione e non ci saranno in programma delle repliche. Dunque appuntamento venerdì sera alle ore 21. Tra poco invece box con i protagonisti di Fano, in cucina con lo chef e poi questa sera abbiamo uno speciale realizzato sabato all'autorium Pedrotti del Conservatorio Rossini di Pesaro per in occasione del restyling del settimanale Il Nuovo Amico. C'è anche l'intervento del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinal Bassetti. Io mi fermo qui, grazie per averci seguito. Buona serata a tutti.